tutti cari amici di opera classica sono ritornata per darvi le anticipazioni della stagione 2023 2024 del teatro reggio anzi 2024 del teatro reggio di parma allora prima abbiamo presentato quella del teatro dell'opera di roma ora vi presento la stagione 2024 del teatro reggio di parma presentata appunto qualche giorno fa a breve troverete anche tutte le informazioni in rassegna sul sito con cui collaboro eco italiano e quindi anche gli amici argentini potranno leggere allora andiamo a vedere subito la stagione allora io vado dal sito questa presenta si presenta con questo logo praticamente la stagione di di opera allora e andiamo a vedere questa stagione lirica quindi si inizia con il barbiere di siviglia a gennaio 2024 e andiamo a capire allora direttore maestro concertatore direttore diego ceretta regia scene e costumi pierluigi pizzi proseguiamo poi con l'elisir d'amore a marzo 2024 e abbiamo maestro concertatore direttore sesto quattrini regia daniele menghini ok si prosegue con tosca a maggio 2024 allora maestro concertatore direttore daniel oren regia giosef franconi li da un'idea di alberto fassini si prosegue ancora con reggio 195 allora concerto sinfonico corale in occasione del 95esimo anniversario dell'inaugurazione del teatro reggio interpreti filarmonica arturo toscanini coro del teatro reggio di parma maestro del coro martino faggiani ok andiamo avanti con le prove under 30 da gennaio a maggio 2024 e poi ci saranno ancora le prove aperte da gennaio a maggio 2024 la rassegna prima che si alzi il separio il separio sempre da gennaio a maggio 2024 ok questa è la stagione lirica adesso passiamo alla stagione concertistica 2024 del teatro reggio di parma allora la sezione dei concerti si presenta con questo logo con la scritta concerti non so se riuscite a vederla allora la stagione concertistica a l'apertura con trio di parma e la filarmonica arturo toscanini a gennaio 2024 direttore diego ceretta musiche di betoven svorjack poi ancora quartetto innaco e alessandro taverna febbraio 2024 ok in programma brams quartetto per archi numero uno in don minore opera 51 numero uno quintetto in fan minore per pianoforte archi opera 24 ok si prosegue poi con emmanuel paude trevor pinnock e jonathan manson a marzo 2024 allora in programma musiche di buck teleman ok buck teleman poi si prosegue ancora con mikail platnev a marzo 2024 in programma musiche di scriabe chopin chopin ok andiamo avanti con andrea lucchesini ad aprile 2024 ok in programma musiche di betoven schumann list poi ancora berta royas a maggio 2024 in programma musiche di ok qui è un concerto conclusivo del pagalini guitar festival ok il programma non è ancora pubblicato però penso che a breve sarà pubblicato e ovviamente vi metto il link sotto questo video ok poi proseguiamo con allora proseguiamo ancora con ok la stagione di concerti allora è finita quindi passiamo a Parma Danza 2024 allora Parma Danza 2024 la passione dei possibili Magui Marin progetto dell'anno Reggio Parma Festival a maggio-dicembre 2023 ok poi 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 proseguiamo con allora proseguiamo Parma Danza allora ecco qui Parma Danza questo è il logo con cui si presenta la stagione 2024 di Parma Danza allora si inizia con Paul Taylor Dance Company a gennaio 2024 e poi ancora Compagnia Paliashvili di Tbilisi il lago dei Cigni a febbraio 2024 FDN Ater Balletto sempre a febbraio 2024 Saburo Teshigawa Teshigabara e Ryoto Sato Tristan and Isolde ad aprile 2024 Ballet Preliokai ad aprile 2024 e questi sono gli impegni di balletto ok poi adesso quello che vi avevo detto prima in realtà c'è adesso perché c'è La Passione dei Possibili Magui Maren progetto dell'anno Reggio Parma Festival a Parma Reggio Emilia maggio-dicembre 2023 quindi è questo evento che si sta è in corso ok e poi credo che sia ultimata la presentazione della della stagione sì perfetto ok questa è la stagione 2024 del teatro quindi di lirica concertistica Parma Danza del teatro Reggio di Parma presentata qualche qualche giorno fa io spero che questo video possa esservi utile è una sorta di va de mecum per orientarvi quindi sono giusto le direttive principali per farvi capire quali eventi sono in cartellone poi nelle prossime settimane troverete il video completo con tutte le informazioni nel dettaglio sul mio canale youtube seri opera classica io auguro al teatro Reggio di Parma una buona stagione 2024 di lirica concertistica e Parma Danza e auguro a tutti noi buona salute buona musica e buon sabato sera a tutti ciao ciao